Con le città ferme, i posti in prima linea sono gli ospedali. Alle mie spalle il Policlinico di Modena. È dentro questa struttura sanitaria, come in tante altre in Italia, che si sta combattendo questa lotta silenziosa. I reparti più direttamente coinvolti in questa emergenza presso il Policlinico di Modena e l'ospedale di Baggiovara sono le malattie infettive, le malattie dell'apparato respiratorio, i pronto soccorsi e le terapie intensive. Un grande sforzo umano e professionale, spiega Massimo Girardis, direttore della terapia intensiva di Modena. Quante ore al giorno lavorano in anestesista di animatore? Devo dire che in questa fase ci stiamo un po' stabilizzando. È chiaro che nella preparazione di tutto quanto abbiamo tirato un po' la corda. Come amo dire io, invertirei la domanda, quante ore dormiamo in una giornata? Chiaramente cerchiamo di riposare al massimo le ore che sono disponibili, però veramente nell'ultimo periodo tutti i medici che lavorano intorno a questo problema credo che siano intorno alle 18-20 ore di lavoro al giorno. 20 ore forse troppo, diciamo 18 ore al giorno potrebbe essere un significato, anche perché poi quando vai a casa devi non soltanto pensare al lavoro direttamente, ma devi anche iniziare a riflettere qual è la strada giusta, migliore per curare queste malattie. L'azienda sanitaria, in un album su Facebook, ha pubblicato alcune foto dai reparti di malattie infettive, delle terapie intensive e dei pronto soccorso. L'album, dal titolo Voi ci sostenete, noi vi mostriamo come lavoriamo per voi, vede oltre 2.000 like e più di 3.000 condivisioni e mostra dall'interno il lavoro intenso a cui è sottoposto l'esercito buono del personale sanitario impegnato in questa emergenza. Ma anche i cittadini devono fare la propria parte, restando a casa per evitare e contenere il diffondersi del coronavirus. A uno degli ingressi del Policlinico, messaggi di solidarietà rivolti al personale sanitario. Avete messo in pericolo la vostra vita per salvare la nostra. Grazie. Poi c'è un altro messaggio, siete il nostro orgoglio. Ecco il bollettino rilasciato dall'azienda sanitaria il 17 marzo. La situazione per quanto riguarda i ricoveri di casi sospetti e accertati. La situazione di stamattina vede nel complesso ricoverati in azienda 131 pazienti covid positivi, 32 all'ospedale civile di Baggiovara e 99 al Policlinico. Di questi sono in terapia intensiva 42 pazienti, 23 nei posti intensivi gestiti dal Prof. Girardis in Policlinico e 19 nella terapia intensiva dell'ospedale civile, diretta dalla dottoressa Bertellini. Risultano inoltre, in attesa di conferma diagnostica, 72 casi sospetti. Al Policlinico in degenza ordinaria sono seguiti 76 pazienti positivi, dei quali 48 presso le malattie infettive e 28 negli altri reparti. Per quanto riguarda l'ospedale di Baggiovara, sono 13 i ricoverati in degenza ordinaria, concentrati in particolare presso i settori individuati ad hoc nel corso dell'evolversi del piano di attivazione di posti letto aziendale e provinciale.